Buongiorno signori, signore, signorine e anche a voi, tutti gli altri, questo è Sandro Oliva che vi parla. Dopo decenni di sano agnosticismo razionalista ho deciso finalmente di abbracciare anch'io una religione, anzi di fondarne una, la religione del piede. E non parlo di adorare il piede femminile, altrimenti sarebbe feticismo. Non un piede in particolare, ma il piede. Nella storia il piede è stato sempre al centro di ogni avvenimento. Intere popolazioni sono state messe sotto ai piedi, per poi levarsi in piedi e togliersi il tiranno dai piedi. Salvo poi ritrovarsi qualche secolo dopo un ometto che si mette i rialzi sotto ai piedi, per essere all'altezza dei veri potenti, che è detto fra noi, cadono sempre in piedi. Forza tutti insieme, cantiamo e balliamo questa canzone del piede! Tutti insieme! Questa è la canzone del piede, quello in cui ciascuno di noi crede. Questa è la canzone del piede, quello che ci vede e poi provvede. Grazie! Grazie! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti